Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube, oggi andiamo ad inaugurare quella che è una nuova miniserie nella quale andrò ad analizzare assieme a voi quelli che sono i migliori giocatori secondo me per campionato quindi a partire da quello che è proprio il primo episodio di oggi andiamo esattamente a vedere quelli che sono i migliori giocatori per una serie A visto che ultimamente sono tante le domande del tipo che è meglio tra Duncan e Tonali eccetera eccetera che è meglio tra Rashford e Maximen ho pensato di fare innanzitutto un confronto di questo tipo aspettare ancora una settimana che uscissero i nuovi what if eccetera eccetera per poi andare a fare anche quelle che sono le top esterne eccetera eccetera aggiornate visto che ci avviciniamo anche comunque a release di Icon, probabile compleanno foot eccetera eccetera quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere mettetevi comodi perché andremo a vedere tutti i giocatori presenti in serie A che secondo me sono i più validi quindi passiamo subito sulla schermata in game dove ci attende il primo portiere visto che andremo in ordine di ruolo il primo portiere è il buon Samir Andanovic 1,93 di cristone quindi tanta roba per quanto riguarda parate soprattutto tra i pali a 91 di tuffo, 89 di presa, 91 di riflessi e 91 di piazzamenti pecca un po' nel rinvio quindi magari se gli affidate rilanci sappiate che qualche volta potrebbe effettivamente andare a sbagliarli però sicuramente è uno dei migliori portieri in serie A e a contende di questo titolo perché diciamo che all'interno delle varie categorie vi dirò anche chi è meglio e chi è peggio però qui veramente non ho saputo decidere abbiamo il buon Donnarumma il quale in questa sua versione record breaker anche qui parliamo di un giocatore di 1,96 m quindi un bel cristone che tra i pali veramente sembra coprire tutto lo specchio della porta solo stando in piedi anche qui 91 di tuffo, 91 di riflessi, 86 di piazzamento quindi in questo caso abbiamo piazzamento e presa che sono inferiori rispetto ad Andanovic mentre è livellamente migliore quello che è il rinvio infatti G gioco i piedi comunque se la cava abbastanza bene 3-2 vi ripeto io Donnarumma l'ho provato mi è piaciuto un sacco ho avuto tanti feedback positivi anche su Andanovic quindi se dovessi scegliere per una serie A veramente farei fatica ma sappiate che questi due sono i migliori poi comunque per quanto riguarda i portieri sapete che magari vi potete trovare meglio con un altro rispetto anche a questi che sono i due portieri indicati però in linea di massima sono questi due ovviamente stile di intesa come sapete è base perché ai portieri non gli mettono né nulla né guanto né gatto eccetera eccetera passiamo adesso a quello che è il reparto difensivo e iniziamo con quelli che sono i terzini destri partiamo dal buon Bruno Perez che ormai insomma lanciato a quelli che sono una serie di upgrade in questa versione cammino verso la finale in Europa League quindi potrebbe ancora upgradarsi vi dico molto valido anche se ha un work rate che magari potrebbe spaventarvi vi assicuro che non si sente piede destro 1m78 è una carta che comunque ha ovviamente un'ottima velocità ha dei buoni passaggi però il lungo un po' si fa sentire che pecca ottimi parametri di agilità, equilibrio, controllo palla eccetera eccetera quindi vuol dire che con le L2 scivola bene ottimi anche le statistiche difensive in particolare la rettura che gli permette di fare diagonali automatiche pecca un po' in forza e aggressività ma sicuramente è un'alternativa molto molto valida in quello che è il campionato nostrano a fargli compagnia in questo reparto abbiamo il boom quadrato rule breaker non il mot, non l'if eccetera eccetera visto che questo è quello che ha i parametri di difesa più alti e il rapporto qualità prezzo è anche il migliore anche qui un work rate alto normale 1.79, 5 di abilità e 3 di piede debole passaggi che sono identici praticamente a Bruno visto che abbiamo un corto ottimo e un lungo da rivedere anche in questo caso parametri di dribbling che sono molto molto buoni qui statistiche difensive che non sono buone come quelle di Bruno visto che la lettura difensiva è a 80 quindi un verde chiaro e non spuro molto meglio l'aggressività rispetto a Bruno la forza pecca però vi dico che sto quadrato porta molto bene il pallone non si sente tanto quella carenza di forza e soprattutto quella lettura difensiva in realtà è abbastanza fake perché il suo lo fa e lo fa molto molto bene quindi tra i due nonostante abbia messo prima il buon Bruno Perez vado a preferire quadrato anche per quelle che sono le ragioni di ibridabilità col buon Cristiano Ronaldo non c'è Diogo Dalot in questo reparto di terzini destri perché lo ritroveremo davanti tanto le valutazioni che farò per la versione terzino sinistro saranno identiche a quella della versione terzino destro che le carte sono praticamente uguali passando invece ai difensori centrali in questo caso dovrei averli messo in ordine se ricordo quindi il più forte di tutti per me al momento è il buon Smalling Smalling che ha una carta dinamica ciò vuol dire che se la Roma riuscirà a fare una queen sheet il video uscirà dopo la giornata di campionato del weekend quindi magari l'avrà fatta non lo so si è andato a dupegradare diventerà veramente un mostro finale non solo per una serie ma ovviamente anche per andare a dupegradare quelle che sono magari ibride un metro e novantaquattro normale alto piede destro molto veloce anche se il parametro di velocità è bustato tanto dalla velocità scatto con un'accelerazione che è un po' a me però tuttavia quel 75 gli fa lievemente perdere sul primo passo ma poi con le lunghe leve il metro e novantaquattro di altezza recupera quello che c'è ed ottimi passaggi sia corto che lungo agilità 75 per un DC anche non c'è male quindi con l'L2 si muove abbastanza bene statistiche difensive da top forza e aggressività veramente lodevoli costa un po' tantino però questo qua è a mani bassissime il miglior difensore in serie A è probabilmente anche uno dei migliori difensori del gioco perché no a fargli compagnia abbiamo un altro maccione ovvero il buon culibali un metro e 87 per lui normale alto piede destro qui abbiamo sempre 75 di accelerazione ma 79 di velocità scatto quindi rispetto magari a quello che è uno smalling il buon culibali cede lievemente il passo però recupera con quella che è la sua grandissima fisicità statistiche difensive al top forza 96 aggressività 89 passaggio corto buono lungo un po' meno qui pecca un po' quella che è l'agilità con 54 quindi vuol dire che con l'L2 magari è meno reattivo rispetto a smalling in quelli che sono i cambi di direzione repentini per coprire i giocatori avversari però parliamo comunque di un giocatore molto molto valido così come è molto molto valido il buon Robin Gosens che è un metro e 88 quindi è il più basso della categoria nonostante sia più veloce rispetto a un culibali magari questo un po' si sente passaggi corti e lunghi tanta roba anche qui 74 e agilità per un difensore è molto molto interessante statistiche difensive in particolare la lettura è un parametro che ci sta forza 80 e aggressività 84 insomma sono parametri accettabilissimi si piazza secondo me al terzo posto in quella che è la mia personalissima classifica e i difensori centrali per quanto riguarda una serie A manca il buon bastoni perché secondo me rispetto a questi tre è inferiore ma comunque è un giocatore discreto però facendo una top vi vado a inserire questi in mia opinione abbiamo poi il buon Diogo Dalot veramente molto forte molto valido un metro e 83 alto normale che io onestamente ho provato l'ho utilizzato soprattutto spostato a difensore centrale vi dico veramente tanta 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 roba sto Diogo Dalot spostato in quella posizione lì veramente validissimo stessa cosa la versione TD quindi senza alcun tipo di problema veramente promosso passaggio corto buono lungo un po' si sente agilità 86 statistiche difensive al top forza 82 aggressività 88 molto molto buone abbiamo poi sempre lì a sinistra un altro giocatore della madonna ovvero il buon Teo Hernandez che ormai insomma conosciamo benissimo nella sua versione Headliner piede sinistro un metro e 84 come ci siamo detti più volte può fare anche il difensore centrale oltre che il terzino sinistro anzi risulta un po' sprecato da terzino sinistro vista la sua corporatura massiccia che da difensore centrale unita a quella velocità lo fa rendere veramente una bellezza peccato il passaggio lungo però insomma se lo mettete da difensore centrale poco ci fate il corto che vi interessa è 90 e GG agilità 84 reattività controllo palla tutti quanti parametri eccezionali statistiche difensive ottime con pure 83 di lettura difensiva che è quello che vi fa fare interventi automatici e i movimenti automatici quindi guardate quello forza 85 aggressività 82 sono molto molto buoni quindi Teo si aggiudica la palma di miglior terzino sinistro e probabilmente anche quella di miglior difensore centrale anche se non di ruolo anche davanti a Smalling passiamo invece a quello che è il reparto dei mediani è il primo mediano che io andrei ad analizzare il buon Giorgione Ghiellini e la sua versione Freeze 1,87m normale alto piede sinistro questo qui è veramente un bel giocatorino ha degli ottimi passaggi ha una discreta agilità ha ottime statistiche difensive ottime statistiche di forza e aggressività spesso e volentieri mi chiedete se metterlo in difesa e fare lo switch con Gosens dico onestamente si può fare però questo qua anche da mediano vi devo dire la verità per me il suo può tranquillamente dirlo è Gosens che ha un pelo più veloce si può sfruttare tranquillamente da DC così come Ghiellini ha anche dei passaggi migliori per poter fare meglio la fase di impostazione quindi questo switch io onestamente non lo andrei a cercare Ghiellini lo lascerei in questa posizione qui andando avanti abbiamo il buon Sergei Milinkovic Savic nella sua versione headliner era un SBC se non ricordo male 1,91m alto normale 4-4 questo qua se l'avete sbloccato vi ritrovate nel club un giocatore veramente interessante con passaggi clamorosi agilità un pochino così e così ma statistiche difensive e di fisico veramente notevoli qui non li vedete ancora in ordine poi vi faccio un recap per quella che è la mia personale classifica tra questi giocatori personale classifica all'interno della quale si va a inserire anche il buon Alfredo Duncan il quale se l'avete sbloccato dal pass raga io vi giuro l'ho provato nel torneo della Champions League su PS dove aveva una squadra molto esotica perché ero stato invitato sapete che io gioco su Xbox oh ma che giocatore è Duncan passaggi veramente top super agile si attacca agli attaccanti ai centrocampi per andare a recuperare il pallone legge bene le situazioni con l'83 lettura difensiva veramente molto molto positivo il buon Alfred Duncan devo dirvi la verità poi gratuito regalato stesso discorso da fare per il buon scusatemi ho lievemente trollato stesso discorso da fare per il buon Sandro Tonali il quale anche qui era una carta gratuita parliamo di un giocatore di un metro e 81 normale alto bella roba ai suoi passaggi buona anche il parametro di agilità ottima anche le statistiche di forza e aggressività lettura difensiva buona con traste in piedi ottimo pure l'ascivolato 84 di intercettazioni per un giocatore di un metro e 81 gratuito veramente molto molto valido ragazzi molto molto valido secondo solo secondo me al momento al buon Frank Kessy che costa una valanga ma è una carta dinamica quindi potrebbe continuare a salire se il Milan dovesse fare lo smacco contro lo United un metro e 83 alto alto quindi il perfetto centrocampista box to box veloce ottimi passaggi discreta la potenza anche il tiro con un'ottima potenza tiro è una finalizzazione un po' me ottimi anche i parametri di dribbling col 77 di agilità che non è niente male devastanti sia le statistiche di difesa che di fisico regà 93 di forza 95 di aggressività questo qua non lo muovi sia vinghia gli avversari e non lo salta quindi per quanto riguarda quella che è la mia preferenza per quanto riguarda il centrocampo vi dico che si tonali duncan milinkovic chiellini mancano in goland perché in base a quelle alternative qualità prezzo gratis come tonali e duncan vi ripeto per me fa la differenza passiamo invece a quello che è il reparto esterni reparti esterni che vede un altro giocatore obiettivo gratuito che se vi ritrovate nel club tanta roba vista la carenza in serie A di esterni è il buon Gerardo De Lofeo del quale abbiamo già parlato insomma 4-4 velocissimo anche discrete le statistiche di potenza tiro e finalizzazione un buon passaggio corto meno e lungo ottimo il parametro di agilità ovviamente 99 infatti questo si gira su se stesso come una trottola io l'ho utilizzato a lungo quindi devo dirvi la verità il buon De Lofeo è sicuramente uno dei migliori esterni così come il buon Roberto Pereira il quale abbiamo già visto nel video di Wotif che è molto interessante piedo destro 4-4 1-82 questo qua io l'ho rivalutato anche in quella che è la posizione di Cici magari in un rombo piuttosto che in un 4-4-2 devo dire la verità che è veramente un giocatorino interessantissimo però per quanto riguarda il ruolo di esterno puro gli preferisco De Lofeo mentre preferisco ad entrambi il buon El Sharawi che è un SBC che io andrei a fare non so se è scaduta ve l'avevo detto anche nella review con gameplay molto molto valido il buon Stefan 5 di mostrabilità 4 di piede debole molto agile ha un tiro a giro della madonna finalizza bene infatti ha 86 di finalizzazione la potenza tira un po' così ma vi assicuro che in area tira delle lecche clamorose infatti nel video con gameplay di review trovate tutti questi piccoli dettagli passaggio corto che è buono e lungo un po' si fa sentire è molto agile controlla bene il pallone anche schilla veramente bene quindi sicuramente il miglior esterno sinistro in serie A per quanto riguarda invece la corsia di destra la corsia di destra che vede un po' una moria delle vacche il migliore in assoluto è il buon Dejo Anku Luseschi nella sua versione appunto nella sua versione future star piede sinistro 4-4 1-86 regà questo fa degli speed boost con l'L1 che fanno paura lascia 10 metri di campo all'avversario quindi magari sia più lento di questo Lozano qua io lo preferisco 100x non solo perché ha 4 piedi debole e finalizza meglio ma appunto perché col suo body type lascia sul posto gli avversari con questi scatti full mini con l'L1 quindi tra i due il buon culo lo preferisco e costa probabilmente anche meno di Lozano se vado a memoria un'altra carta molto molto valida da utilizzare in corsia è Stolautaro Martinez in questa versione speciale e quindi non questo e non in quella versione che ho trovato discontinua per quanto riguarda il tiro infatti questo qua finalizza molto meglio con 86 di potenza tiro e 92 di finalizzazione ce lo si sta un po' dimenticando credendo che il freeze sia a priori il più forte solo perché più veloce no questo qua piotta ve lo garantisco uguale e lo potete usare sia da punta che da esterno quindi esterno destro a fare concorrenza a Kuluseski che per me rimane il migliore ma magari se la può andare a dibattere un po' più con un Lozano per quanto riguarda invece la posizione di C.O.C. abbiamo il buon Mkhitaryan il quale anche qui molto molto forte 4 e addirittura 5 di piede debole mentre 4 erano le mosse skill 1,77 velocità discreta buon tiro ottimi passaggi ottima agilità controllo palla questo qua è veramente interessante poi una carta dinamica anche qui qualora dovesse la Roma fare un filotto di 5 vittorie consecutive o prendere una versione speciale andrebbe a upparsi e sarebbe veramente clamoroso Cristiano Ronaldo tra gli attaccanti ovviamente non lo scopriamo oggi insomma mi fa anche strano andarlo a commentare l'attaccante principe all'interno di questa di questa classifica di giocatori della Serie A ovviamente lo potete usare ovunque insomma fenomeno anche ora assolutamente dopo la patch non risente boiate fenomeno Cristiano still fenomeno e a concludere abbiamo il buon Rebic anche qui 1,85m di giocatore alto normale piede destro 4 di abilità e 4 di piede debole vi dico questo qua ha un'ottima velocità finalizza bene passaggio così e così agilità un po' da rivedere visto che c'ha 88 di forza e 1,85m mi aveva sicuro che da punta questo qua lo riesce a fare abbastanza bene e in più può farvi bene anche l'esterno quindi lo potete anche adattare sia a sinistra che a destra qualora magari non abbiate sbloccato il Sharawi ve lo ritrovate uno scambiabile eccetera eccetera non c'entrava fisicamente tra questi giocatori il buon Muriel ovviamente la versione quella lì dinamica che salvo cose strane in teoria non dovrebbe più parsi visto che l'Atalanta non ha vinto la prima con il Real anche se potrebbe succedere un miracolo questo qua sicuramente è tra i tre attaccanti migliori in serie A velocissimo super agile 1,79m 4,4m finalizza molto bene c'è un body type un po' alla fenomeno lo paragonano anche in realtà al fenomeno al buon Muriel se non fosse un po' discontinuo sarebbe veramente tanta roba quindi il buon Luis Muriel sicuramente ci sta di brutto e io lo piazzo forse anche un pelino sopra il Rebic che magari è meno agile ma un po' più esplosivo nei movimenti quindi da scegliere ovviamente il top del top rimane il buon Cristiano Ronaldo quindi questa è quella che è una panoramica completa sui giocatori da andare a selezionare che chiaramente possono essere anche estrapolati e piazzati in un'ibrida e non è che solo se avete una serie A però il focus è sul campionato così poi ci andiamo a dibattere le top in base a quelli che sono i ruoli in futuro però almeno abbiamo qua la bibbia della serie A al momento e niente per questo video è tutto io vi ringrazio per la visione vi ricordo di lasciare un like e un commento seguitemi sulla piattaforma Viola trovate in info descrizione tutte le appunto informazioni per seguirmi lì tutti i giorni è nudo ragazzi io vi auguro una buona giornata un saluto nel vostro Liberoschi ciao ciao